E' un fallo di pura foca agonistica, sarà calcio di punizione. Arbitro che si avvicina a Marcelli Fezzone e qui il calcio di punizione è ovvio, così come il cartellino giallo. Ecco che ci prova, prosegue nella sua corsa, è inarrestabile, sta arrivando in porta. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e c'è il gol. Mamma mia come si è coordinato bene, l'ha messa proprio nell'angolo destro dove il portiere non poteva arrivare. Grazie. 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 Cristiano Ronaldo. Peccato. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Conclusione col pallone fuori dai pali. Il tiro non è stato irresistibile, ma la visione di gioco è ottima. Ronaldo. Oltre la linea c'è il gol. Che precisione, quando la palla finisce lì, per il portiere c'è poco da fare. E' entrato nell'ultimo quarto d'ora. Cristiano Ronaldo. Cacca.